Sì, molto brevemente vi racconto questa esperienza che nasce dalla necessità di unire finalmente la giustizia ecologica ambientale con giustizia sociale. E quando tra compagni provenienti da diverse esperienze ci siamo posti il problema di come fare questa unione, come farla capire, come farla comprendere alle fasce popolari, insomma, quelli che sono i nostri soggetti di riferimento, abbiamo capito che una battaglia sulle questioni ecologiche, sulle questioni sociali non poteva prescindere dalla necessità di un processo di ricomposizione di quel tessuto sociale che purtroppo come sinistra antagonista, come sinistra di classe, in qualche modo abbiamo perso negli ultimi anni. Quindi ritornare a parlare alle persone perché questo è l'unico modo per riuscire a far comprendere alle persone come a fronte delle tante crisi che si sovrappongono, quella climatica, quella economica, quella sanitaria, quella sociale, ora l'ultima, quella bellica, far capire come alla base di tutte queste crisi ci sia un sistema di dominio che noi chiamiamo capitalismo, ma è un sistema di sfruttamento sul vivente a 360 gradi, quindi la questione, la contraddizione tra capitale e lavoro non può prescindere dalla questione della contraddizione tra capitale, lavoro e ambiente. Quindi dopo l'esperienza, il fuoco che c'è stato negli scorsi anni da parte dei ragazzi dei movimenti dei Fridays for Future, piuttosto che Extinction Rebellion, abbiamo notato che al di là delle frange giovanili, comunque poche ancora, questi movimenti avevano proprio il problema di parlare con le persone, parlare con i territori, parlare nei quartieri, cioè il messaggio di un ambientalismo radicale, come quello che noi sosteniamo di questi movimenti, comunque non arriva. Non arriva alle persone, non arriva alla gran parte delle persone. E allora noi pensiamo che l'unico modo per riuscire a far comprendere alle persone come la condizione della loro vita dipenda da questo sistema di dominio e quindi dal progressivo peggioramento che le persone stanno vivendo, non si può che ripartire dai bisogni delle persone. Ed è per questo che abbiamo così ragionato su un metodo che potesse funzionare, che è quello delle assemblee popolari. Un metodo non fondato solo sulla denuncia e sulla propaganda, ma un metodo che ci permette, ci permettesse di metterci in ascolto prima di tutto. E quindi con il ruolo dei nostri attivisti, dei compagni, delle compagne che fanno parte della rete ecosocialista romana, il ruolo di facilitazione, perché abbiamo proprio la necessità di ricostruire questo rapporto. E le assemblee popolari, come le esperienze che abbiamo fatto a Cinecittà, ha dimostrato essere un metodo molto inclusivo, che permette alle persone finalmente di esprimersi, perché non parte da una comunicazione, tra virgolette, ideologica. Cioè ci presentiamo come una rete di persone che vuole risolvere o provare a risolvere quelli che sono i bisogni che sentiamo tutti. E quindi con un insieme di iniziative che possono essere praticate nei quartieri verso un percorso di autogestione, autoorganizzazione, che nasce proprio dal basso. In questo percorso abbiamo immediatamente aggregato le associazioni ambientaliste più radicale, ma anche associazioni antispeciste, animaliste, che finalmente hanno compreso come il disequilibrio tra uomo e natura, frutto di questo modello di sfruttamento, non potesse essere affrontato solo con una visione morale o etica rispetto alla sofferenza animale, ma serve un cambio di sistema, un cambio radicale di sistema. Abbiamo aggregato anche organizzazioni come Rifondazione Comunista, come Sinistra Anticapitalista, organizzazioni, permettetemi il termine, più tradizionali, che finalmente hanno compreso che bisogna costruire questo rapporto, bisogna recuperarlo. Proprio per avere nuova forza, accumulare nuova forza militante, nuovi soggetti che possano poi essere pronti a scatenare una nuova stagione di lotte e di conquiste su questi temi, però noi crediamo che sia imprescindibile partire da questo. Tra le prime iniziative che abbiamo fatto è anche il lancio di un questionario, proprio per raccogliere quelle che sono le emergenze, quelli che sono i bisogni delle persone nei quartieri popolari, ed è incredibile come quasi l'80% dei nostri questionari alla domanda su quanto sei disponibile ad impegnarti in percorsi appunto di autogestione e autorisolvimento di alcuni bisogni, come ad esempio quello del caro bollette, quindi quelle comunità energetiche solidali, piuttosto che con la gestione dal basso dei rifiuti, come il riciclo della plastica, cioè percorsi molto concreti. Bene, l'80% delle persone che hanno risposto a questi questionari hanno detto che sono disponibili a impegnare 5-10 ore alla settimana del loro tempo. Questo vuol dire che forse la volontà di impegnarsi da parte delle persone, anche quelle meno politicizzate, su questi temi c'è, e noi dobbiamo riuscire a incrociare, dobbiamo riuscire a intercettare questo desiderio. Le persone hanno capito che dal basso ci si può muovere, se siamo in tanti riusciamo a cambiare veramente. Forse non lo vogliono fare con i partiti, questo è un problema che dobbiamo porci, e quindi forse dobbiamo lavorare proprio alla costruzione di quel grande movimento dei movimenti che ancora manca, e dobbiamo farlo però su un terreno comune, un terreno di convergenza molto pratico, molto concreto, fatto di tante iniziative, di progetti, dalla solidarietà mutualistica a progetti concreti, di case dell'acqua, cioè cose molto concrete che però ci permettono di aprire delle contraddizioni, far comprendere alle persone come è necessario superare questo modello. Un modello che ha dimostrato tutto il suo fallimento e abbiamo bisogno di farlo in un'ottica assolutamente antisistema. E questo non vuol dire fare ecologia sociale, l'ecosocialismo è una cosa molto diversa, come compagni e compagne abbiamo capito che la questione del potere non può essere elusa. è proprio questa rete ecosocialista che mette insieme realtà così diverse, alcune più avanzate, altre più arretrate, ma che insieme si cerca di portare avanti questo percorso, è proprio per arrivare a una nuova stagione elettorale dove non ci si presenta come l'anno scorso a Roma, divisi in decine di partiti comunisti, di realtà comunque antisistema, che corrono da sole, dobbiamo costruire unità. E le assemblee popolari nei quartieri è una proposta che facciamo tutti, non è detto che sia, non abbiamo la bacchetta magica come già diceva qualcuno, non è detto che sia l'unica soluzione, ma sicuramente può contribuire a questo processo. Quindi invitiamo tutte le compagnie e compagni a partecipare, è un progetto aperto e naturalmente invitiamo anche i compagni e le compagnie di altri territori a provare a sviluppare nel loro territorio questo metodo, questo modello, che è un modello molto inclusivo e che sembra funzionare, insomma. Ecco tutto qui. Grazie. Grazie. Grazie.